Ho chiesto a Dio la forza e Lui mi ha dato difficoltà per rendermi forte. Ho chiesto a Dio la saggezza e Lui mi ha dato problemi da risolvere. Ho chiesto a Dio la prosperità e Lui mi ha dato muscoli a cervello per lavorare. Ho chiesto a Dio il coraggio e Lui mi ha dato pericoli da superare. Ho chiesto a Dio l'amore e Lui mi ha affidato persone bisognose da aiutare. Ho chiesto a Dio dei favori e Lui mi ha dato opportunità. Non ho ricevuto nulla di ciò che volevo, ma tutto quello di cui avevo bisogno mi è stato dato. Quando alla fine della nostra vita ti presenterai davanti a Dio, Lui ti chiederà solamente dieci cose. Dio non ti chiederà che auto avevi, ma ti chiederà quante persone hai dato un passaggio.